E' un dato che inverte la tendenza degli anni precedenti, quando i reati aumentavano di pari passo con la crisi. Nella Regione Marche, invece, i reati sono in calo ma aumentano i furti. Secondo gli ultimi dati divulgati dal Ministero dell'Interno ed elaborati dai centri studi CNA e Confartigenato, quelli denunciati nella Regione Marche nel 2014 sono stati poco più di 54.000 rispetto ai 56.000 dell'anno precedente, con una riduzione di circa 2.200 reati pari al 3,9% in meno. I furti, invece, che costituiscono oltre la metà delle denunce salgono di 770 casi. Tra le province marchigiane, quella con il maggior numero di reati denunciati, è Ascoli Piceno, dove lo scorso anno sono stati denunciati quasi 3.700 reati ogni 100.000 abitanti. Nella classifica delle province italiane, invece, si piazza il 59esimo posto seguita da Ancona, che è il 62esimo. Seguono Macerata, fermo in 85esima posizione, Pesaro e Urbino, con 3.353 reati ogni 100.000 abitanti. È un calo dei furti dell'8,9%. Si tratta per lo più di microcriminalità predatoria, commentano i presidenti di CNA, Gino Sabatini e di Confartigianato Marche, Salvatore Fortuna. E in particolare di borseggi, scippi, effrazioni e furti d'auto. Questi reati sono dovuti anche all'aumento della disoccupazione, dei disagi sociali e della povertà, a cui corrisponde una sensazione di insicurezza nelle strade, in casa, nelle aziende. Sono invece in calo le rapine, le estorsioni e i reati informatici. Per contrastare questi fenomeni, secondo Sabatini e Fortuna, non bastano i presidi delle forze dell'ordine. Serve anche la presenza delle istituzioni, dei servizi sociali e dell'imprenditoria diffusa, perché il degrado del territorio va sempre di pari passo con l'aumento dei crimini e la crescita della microcriminalità colpisce sempre i più deboli e per primi gli anziani.